Perché vede, io penso che sia proprio questo il punto centrale, il cuore del problema. Cioè, la parola negoziato non è stata mai pronunciata da Biden, da Stoltenberg, dal ministro da Blinken, da Johnson, dai paesi... Solo Di Maio ormai è rimasto a dirla, inascoltato. Allora, questo è molto grave, perché i tentativi a divenire ad un accordo sono iniziati in maniera veramente molto improbabile, con quei negoziati autogestiti, ricorda, con dei personaggi improbabili che probabilmente non avevano neanche mandato per negoziare alcunché o quasi nulla. Sono proseguiti poi con qualche tentativo più serio, Erdogan e Bennett. Con un incontro anche in presenza, ma c'è stato in Turchia, tra i ministri degli esteri. Come diceva la signora Sghisleri, con qualche altro tentativo che aveva un riverbero sull'audience interna in Francia. Ecco, però un tentativo serio di strutturazione, diciamo, importante dei negoziati, così come devono essere condotti, non è stato fatto mai da nessuno e soprattutto da quei paesi che ho menzionato prima. Ossia, se andiamo a scorrere tutti gli interventi pubblici o anche non pubblici, di quei personaggi che ho detto, non troveremo mai la parola cessare il fuoco, negoziato, stoppa le armi. Perché? Perché evidentemente non vogliono la pace. Io so quello che dico, però Joe Biden non vuole la pace. E se non la vuole Joe Biden, non la vogliono tutti gli altri. Non possono volerla. A Joe Biden c'è una cinghia di trasmissione diretta, senza nessun riduttore, verso la Nato. Stoltenberg è esattamente una cassa di risonanza di Joe Biden. Gli inglesi poi addirittura superano, diciamo, per entorietà, per aggressività, sicuramente, gli americani. E quindi questa è la situazione. È inutile girarci intorno. Quindi, un'altra cosa, se mi permette. A questi tentativi andavano associati dei provvedimenti di deterrenza seri e non ridicoli. Perché lungo il confine est della Nato sono state schiarate poche migliaia di persone che non servono assolutamente a niente. Ridicoli. Quindi andava costruita una deterrenza seria, vuol dire tante forze aeree, e mostrare la determinazione a volerle usare. Poteva funzionare come potevano non funzionare. Ma Biden cosa vuole, secondo lei? Biden vuole vedere Putin nella polvere. Non è ancora sufficiente. Quindi la guerra continuerà fino a che non cadrà Putin. Perché Putin ha perduto nel 91 e doveva restare in casa sua senza muoversi più, perché il vinto, questo è il comportamento di chi ha perduto una guerra, e invece questo attivismo in Siria, in Mediterraneo, eccetera, eccetera, ha dato fastidio perché ha riempito gli spazi che gli Stati Uniti hanno lasciato vuoti.